Buonasera e ben trovati in questa terza edizione del TG6. Lo scorso 23 marzo alla Camera è stata approvata la legge di conversione del decreto terremoto. Tante le novità riguardanti l'Abruzzo, sostegno alle imprese, agevolazioni per i lavoratori, fondi destinati all'università e l'allargamento del cratere con l'ingresso di altri 9 comuni. I dettagli nel servizio di Francesca Romana Testi. Decreto sisma in cammino verso le modifiche chieste dai comuni colpiti dagli eventi straordinari del 2016-2017. Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo hanno ottenuto l'ok di Montecitorio alla legge di conversione. Nello specifico tra le novità in evidenza per la nostra regione ci sono L'ottenimento dell'ingresso nel cratere di altri 9 comuni richiedenti come Castelcastagna, Colledara, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Fano Adriano, Barete, Pizzoli, Cagnano, Amiterno, Farindola, diventati così 23 nel complesso. Ogni comune del cratere poi avrà due unità aggiuntive per l'analisi delle pratiche inerenti sisma e maltempo. Saranno equiparati i danni del maltempo a quelli del sisma per i comuni del cratere, possibilità di utilizzo dei fondi della Cassa Depositi e Prestiti per Verifica alle Scuole, più potere sarà destinato ai comuni per gli istruttori della ricostruzione, saranno risarcite totalmente prima e seconda casa sia dentro che fuori dal cratere. Elasticità nell'utilizzo dei fondi al di là del patto di stabilità, le imprese operanti nel cratere potranno delocalizzare le proprie attività nelle province limitrofe anche se in regioni diverse. In ambito scolastico sarà reso valido l'anno 2016-2017 a tutti gli studenti nonostante il numero di giorni persi causa sisma. Sostegno anche alle fasce deboli della popolazione con uno stanziamento di 41 milioni di euro per il 2017. Infine i lavoratori potranno richiedere la cosiddetta busta pesante al di là di dove è fissato il domicilio fiscale del sostituto d'imposta e 3 milioni di euro verranno destinati all'azienda per il diritto allo studio universitario per la realizzazione di una residenza studentesca a Teramo. Noi abbiamo fatto in modo che pervenissi a Palazzo Chigi, dalla Boschia e poi da Gentiloni, la specialità di Farindola, la specialità di Civitella del Tronto e di Campli è anche altro che dovesse emergere. Oggi abbiamo una norma che dice che le case demolite dalle frane trovano copertura giuridica e finanziaria alla stessa stregua della copertura giuridica e finanziaria che riguarda le case distrutte dal terremoto. Dopo la bocciatura del progetto relativo alla realizzazione di Megalò 2, l'impresa realizzatrice ha annunciato ricorso al TAR a rispondere il WWF che proseguirà se necessario la propria battaglia contro la realizzazione dell'opera. Il comitato via dalla bocciatura per il progetto Megalò 2. Da un lato c'è la soddisfazione degli esercenti e commercianti ma anche degli ambientalisti. La società però realizzatrice del progetto annuncia già il ricorso al TAR. A noi dispiace che ci sia tanta insistenza inutile per cercare di costruire in un posto in cui non si può costruire. Il WWF è già pronto a costituirsi al TAR, certamente contro ovviamente questo progetto, ma il TAR non può dare darci ragione. È assurdo che si possa pensare, dopo tutto quello che è successo in Abruzzo, nell'inverno scorso, che si possa continuare a pensare di costruire in zone a rischio. Lunghi fiumi non bisogna costruire, bisogna togliere quello che c'è. E questa è una regola di base che deve essere applicata ovunque. Non possiamo continuare a piangere dopo i disastri e a fare in modo che i disastri si possano creare costruendo dove non si può. È ora di cambiare mentalità. Il comitato via ha fatto una scelta eccellente in difesa dell'interesse della collettività e non dell'interesse di un singolo imprenditore. Noi ovviamente difenderemo questa scelta in ogni livello, ma non ci preoccupa la causa al TAR, non ci preoccupa nulla. Ci preoccupa soltanto questa insistenza da parte dei proponenti nel cercare di fare una cosa che è sbagliata. Cambiamo pagina e ci occupiamo ora delle fibrillazioni insieme al Consiglio Comunale di Silvi. Il gruppo di Silvi 2024 annuncia la sua fuoriuscita dalla maggioranza, che sostiene il sindaco Francesco Comignani. La lista civica di sinistra chiede al primo cittadino di tornare alle urne. Il servizio di Alfredo Primante. L'approvazione del piano regolatore è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e così la lista civica Silvi 2024 decide di uscire dalla maggioranza. Sì, ebbene sì. L'approvazione in Consiglio Comunale della variante al piano regolatore è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Erano settimane, erano mesi, come ho già detto in Consiglio Comunale, che avevamo chiesto una verifica di maggioranza perché c'erano dei punti programmatici che non venivano rispettati e quindi era necessario fare questa specie di steppe per controllare il programma elettorale. Non è stato fatto, non è stato voluto, si è portata questa variante e crediamo che non ci siano più le condizioni di sostenere l'amministrazione comunale e il sindaco Comignani. Tra l'altro c'è anche uno strappo all'interno della vostra lista perché il vice sindaco invece resta al suo posto, partipilo. Sì, diciamo di sì perché il vice sindaco ha ritenuto opportuno rimanere in amministrazione e noi non condividiamo assolutamente questa scelta, però la rispettiamo e quindi lo ringraziamo per il lavoro che ha fatto e ha svolto per la nostra lista e gli auguriamo un buon lavoro. Però è una scelta che politicamente secondo noi non era opportuna perché bisogna avere anche un progetto più a lunga scadenza e una visione più lunga e più grande per Silvi. Adesso che cosa accadrà in Consiglio Comunale? Si sarà in una situazione di 9 a 8 e in maggioranza rimarrà una persona in più rispetto all'opposizione. Sì, ha detto bene. Noi riteniamo che uscendo dalla maggioranza si debba andare ad elezioni anticipate perché i cittadini hanno votato questo tipo di alleanza, Silvi 2024 e il PD. Uscendo noi viene meno proprio il progetto. Se il PD e l'amministrazione comunale e il sindaco Comignani ritiene di dover comunque continuare ad amministrare, in Consiglio Comunale avranno solo un consigliere di maggioranza. Noi faremo un'opposizione costruttiva e porteremo le istanze dei cittadini e controlleremo soprattutto quello che farà l'amministrazione comunale se riuscirà a fare qualcosa. Allo stesso tempo incontreremo i cittadini, apriremo una nuova fase, un nuovo progetto per scegliere una nuova amministrazione e un nuovo sindaco prossimamente. Da 11 anni il WWF promuove l'Earth Hour, una giornata di sensibilizzazione verso i cambiamenti climatici che minacciano il pianeta ad aderire tutti i paesi del mondo. In Abruzzo sono 40 i comuni partecipanti. La più grande mobilitazione globale di cittadini e comunità di tutto il pianeta per la lotta al cambiamento climatico. L'iniziativa promossa dal WWF è stata denominata Heart Hour, l'ora della terra, un'ora simbolica per dimostrare l'attenzione verso l'ambiente e il suo rispetto. L'iniziativa ha visto partecipare l'Abruzzo con 40 comuni che a proprio modo hanno offerto aiuto. A Pescara l'attenzione è stata posta alla spiaggia sottostante il Ponte del Mare, rifugio del fratino, specie in via d'estinzione. Tantissime sono anche le iniziative di volontariato e di attenzione all'ambiente. A Pescara abbiamo scelto una particolare, unendo i cambiamenti climatici a quella che è un'altra emergenza, cioè la tutela di un uccello, il fratino, che nidifica sulle nostre coste proprio nel periodo estivo e quindi è un po' minacciato dall'azione dell'uomo che all'inizio della stagione balneare chiaramente ripulisce tutte le spiagge. Noi procediamo con delle pulizie invece a mano nelle zone dove il fratino è presente, e così da poter coniugare da un lato la valorizzazione e quindi il turismo delle nostre coste ma dall'altra anche la tutela di questo importante animale che peraltro è segnale anche di un'attenzione alla biodiversità di tutto l'Abruzzo. La sensibilità sta crescendo e anche oggi c'è una buona risposta da parte delle scuole con le quali stiamo portando avanti anche una serie di iniziative per il progetto alternanza scuola-lavoro che rendono praticamente protagonisti i ragazzi e il mondo della scuola in generale di quelle che sono le battaglie per la tutela ambientale e per la protezione del nostro territorio. Il questore di Pescara ha decretato la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nel circolo privato Cube Black Box, sito a Pescara Vecchia per un periodo di 15 giorni a decorrere dal 23 marzo scorso. Nel corso della notte del 19 marzo il circolo è stato sottoposto ad un controllo di polizia con riscontro di illeciti penali, in particolare che all'interno del circolo erano presenti contemporaneamente 179 persone, numero sensibilmente superiore a quello tollerabile per il locale e che all'atto del controllo era in corso una serata danzante pur non essendo stata rilasciata alcuna licenza. Riscontrati anche numerosi illeciti amministrativi. La circostanza determinante del provvedimento di sospensione della licenza è stato anche il rivenimento all'interno del circolo grazie all'azione di unità cinofile di piccoli quantitativi di droga, marijuana, hashish e cocaina. Undicesima edizione del premio intitolato a Domenico Allegrino è volto alla solidarietà e al sociale. Ad essere premiate ogni anno personalità che si sono distinte per impegno e sostegno verso il prossimo. Vediamo. Undicesima edizione del premio intitolato a Domenico Allegrino è rivolto all'uomo e alle sfide da lui superate tra difficoltà e dolore. Rivolta al sociale l'iniziativa guidata da Antonella Allegrino impegnata nel sostegno dei più deboli da moltissimi anni. Nel corso dell'evento un premio è rivolto a persone che si sono distinte nel proprio percorso di vita per gesti di grande solidarietà verso il prossimo e poi una serie di testimonianze dirette provenienti anche da paesi lontani decisi a far sentire la propria vicinanza a chi si trova in difficoltà. Per il sì all'uomo noi diamo il nostro riconoscimento come associazione a padre Alfredo Maria Paladini che è un convertito che oggi è passato da una vita di lustri e di bellezze esteriori e invece è cappellano di un carcere e quindi salva e converte e contribuisce alla conversione di molti pregiudicati. Poi abbiamo l'esperienza bellissima di questa testimonianza di ragazzi del Congo che hanno inviato 238 euro raccogliendoli proprio dai loro bisogni, dalla loro famiglia per i terremontati italiani. Ed infine la famiglia di Biase che è invece una famiglia di Pescara che ha straordinariamente accolto e seguito Mohammed, un ragazzo arrivato con un barcone, un 19enne che si è ammalato di melanoma e che poi è deceduto. Sono storie straordinarie, sono tutte storie che dicono sì all'uomo e noi siamo davvero orgogliosi di poterle raccontare perché sono il segno della bellezza che è dentro le persone e che può essere ed è dentro ognuno di noi. Seconda giornata di lavori per il congresso nazionale della WISP in corso al Serena Majestic di Montesilvano. Fra gli ospiti intervenuti oggi anche Don Luigi Ciotti, fondatore dell'Associazione Libera, il servizio di Paolo Renzetti. Fra gli ospiti d'onore al congresso nazionale della WISP qui a Montesilvano, Don Luigi Ciotti di casa, possiamo dire in Abruzzo, lei viene sempre con piacere e crediamo con particolare piacere a questo congresso dell'Unione Italiana Sport per Tutti perché lo sport è oggi importante anche per tenere lontani i ragazzi dalla strada. È d'accordo? No, è importante per tutti. La WISP fa parte di una storia con Libera. Libera è un coordinamento di associazioni. Tra le associazioni fondatrici di Libera è questo movimento di sport di tutti e per tutti. Sì, ogni congresso io cerco di partecipare per imparare innanzitutto, è un segno di affetto e di amicizia, ma anche per sottolineare con me la condivisione che è noi che vince perché solo unendo le forze, creando delle alleanze, costruendo delle reti è possibile oggi abitare di più i nostri territori. Lo sport è fondamentale e importante insieme al ruolo della scuola, dell'associazione dei movimenti, nei vari ambiti, la pratica sportiva, lo sport ha una dimensione di grande valore. Unione Italiana Sport per Tutti, l'acronimo della WISP, vuol dire che tutti possono e devono fare sport senza alcuna distinzione? Beh, bisogna calcare le condizioni perché questo avvenga. E qui si sta parlando di questo, perché se no c'è il rischio che tutto si dirotti sempre in una dimensione molto più alta, invece bisogna riuscire a calarci nei vari territori e bisogna non dimenticare che è stato uno strumento di aggregazione, di socialità, di crescita, ma anche di comunicazione di valori, non indifferente. Don Ciotti, per chiudere, siamo a Montesilvano, in Abruzzo, una terra di confine, d'accordo con questa definizione? Beh, un po' tutti sono terre di confine in questo momento. Doviamo darci però una mossa, una scossa a tutti quanti. Non basta sempre chiedere ad altri, cui dobbiamo chiedere, alla politica, alle istituzioni, ma c'è una parte di responsabilità che tocca a ciascuno di noi. Non cittadini a intermittenza, ma cittadini responsabili. Prenderà il via il prossimo 27 marzo a Pescara, presso l'Ipsar De Cecco, il progetto Educazione alla Legalità, promosso in collaborazione con l'Associazione Falcone e Borsellino. Professoressa Di Pietro, avete presentato oggi qui all'alberghiero il progetto Legalità, uno progetto che verrà ulteriormente ampliato. Noi stiamo lavorando sulle legalità già da tanti anni. L'anno scorso abbiamo avuto moltissimi testimoni di legalità. Quest'anno abbiamo implementato questo progetto Educazione alla Legalità attraverso una serie di incontri con testimoni della lotta contro tutte le mafie che inizieranno già a partire dalla prossima settimana. E poi, nei mesi di settembre e di ottobre prossimi, noi aderiamo e collaboriamo fortemente nell'organizzazione del Premio Nazionale Borsellino. Il progetto prevede una serie di incontri che sono momenti di confronto dei nostri studenti con magistrati e con quanti da tanto tempo lavorano per combattere tutte le forme di corruzione e di legalità diffusa nel nostro Paese. Certo, ci sarà uno spettacolo teatrale che aprirà tutta questa serie di attività il 27 marzo, quindi lunedì prossimo, alle 10.30 presso la Sala Tinozzi della provincia di Vescara. Viene portato in scena uno spettacolo in cui si parla e si riflette sul lavoro. In questo caso la riflessione non è in negativo e non è in rivendicazione, ma gli autori hanno voluto lanciare e lasciare soprattutto ai giovani un messaggio di positività. È un bagaglio culturale anche per la conoscenza di chi ogni giorno combatte contro la legalità, a favore della legalità e contro la mafia e tutto quello che c'è contro. In più, anche l'opportunità di incontrare testimoni che hanno proprio vissuto sulla loro pelle tutto il percorso di testimonianza e quant'altro. Noi abbiamo preso esempio anche grazie a dei testimonial che sono venuti qui nella nostra squadra durante il corso dell'anno e quindi noi ci portiamo sempre ad accrescere anche il nostro concetto di legalità e di cultura. Una iniziativa volta a sostenere il commercio dei piccoli esercenti del centro città continuamente in lotta contro i grandi centri commerciali. La Camera di Commercio di Chieti ha raccolto l'appello di Confcommercio con un progetto che premierà gli scontrini emessi dai piccoli esercenti con dei premi. L'iniziativa si aprirà il prossimo 29 marzo e si concluderà in corrispondenza con le festività pasquali. Questa è un'iniziativa rivolta proprio alla difficoltà che stanno vivendo i piccoli esercenti del centro di Chieti e anche dello Scalo. Si combatte contro Golia perché Megalo 2 offrirà il doppio dei negozi che attualmente ci sono con una concentrazione di centri commerciali nel territorio di Chieti che è davvero fuori dalle norme nazionali. Noi abbiamo fatto questa iniziativa perché quest'anno si è innestata sulla crisi le grandi difficoltà del tempo e della neve che ha portato a un annullamento dei saldi. E quindi diciamo con questa operazione facciamo il fuoritutto per cui ci saranno dei saldi straordinari che permetteranno alle persone di fare gli acquisti di qualità e importanti e negozianti di poter riavviare l'attività con nuovi flussi di cassa e quindi poter guardare la prossima stagione in una maniera più ottimistica. Si guarda quella che è un'iniziativa però in realtà nel panorama se si guarda il panorama del territorio e soprattutto del commercio cosa serve alle piccole imprese per poter vivere di propria vita? Sicuramente devono lavorare assieme perché indubbiamente il commercio è cambiato perché oltre ai centri commerciali c'è tutto il discorso dell'online che sta sradicando il sistema commerciale mondiale e quindi bisogna operare per un'offerta differenziata di alta qualità con grande servizio all'interno cose che non possono essere fornite dall'online oppure dalle catene commerciali che sono molto standardizzate. Lo scorso fine settimana si è tenuto il primo degli eventi previsti dal programma culturale 2017 della Fondazione Aria dal titolo Identità storica e identità naturale per lo sviluppo economico e culturale della regione Abruzzo Arte ed economia un connubio possibile anzi inscindibile secondo la Fondazione Aria che ha scelto l'incantevole cornice della Costa dei Trabocchi per l'evento inaugurale del programma culturale del 2017 Identità storica e identità naturale per lo sviluppo economico-culturale della regione Abruzzo questo è il titolo del convegno che condensa in poche parole ciò che la regione e le sue eccellenze siano esse doni di madre natura o dell'uomo possono rappresentare l'incontro ha offerto spunti di riflessione rispetto al ruolo sociale dell'impresa come strumento di evoluzione economica e culturale del territorio evidenziando anche quanto l'Abruzzo costituisca un unicum almeno in Italia per la ricchezza di mite e stereotipi specie sul versante letterario e antropologico poi si è sottolineato il ruolo da protagonista che deve avere la natura ed in particolare la montagna non solo nel determinare il paesaggio e la biodiversità ma soprattutto in rapporto alle ripercussioni e ai condizionamenti storici sull'uomo il tutto per ribadire con forza che la ricchezza d'Abruzzo sta nel suo giacimento di cultura arte, storia e natura che può rappresentare una vera miniera per chi vuole fare imprese in questa regione sta agli imprenditori guadagnarsi un ruolo nella riqualificazione del territorio attraverso scelte in grado di generare attrattività nei confronti dell'Abruzzo L'evento riguarda uno dei temi fondamentali della nostra attività che è quella dell'identità della regione Abruzzo nelle prossime occasioni che saranno quest'anno o l'anno prossimo ci dedicheremo all'arte, alla cultura e altri aspetti che comunque caratterizzano la particolarità di questo territorio Si svolgerà regolarmente all'interno del Teatro Comunale di Teramo la stagione di prosa della Primo Riccitelli questa mattina all'annuncio del Presidente Cocciolito che ha voluto rispondere alle polemiche sollevate dalla CS Abruzzo, circuito, spettacolo che gestisce il teatro che aveva dichiarato assurde due distinte stagioni di prosa sul medesimo palcoscenico I polemiche non credo che ci siano state da parte nostra piena disponibilità, apertura e anzi approfitto per fare gli auguri in bocca al lupo alla nuova gestione del Teatro Comunale noi semplicemente continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto cioè le nostre stagioni la stagione dei concerti la stagione di prosa che avrà naturalmente una continuità naturale nel 2017-2018 il nostro direttore artistico sta lavorando proprio a questo e quindi siamo convintissimi che la prossima stagione di prosa sarà anche una stagione di qualità e di grande successo comunque l'importante è fare chiarezza e cioè che la Riccitelli farà la sua stagione di prosa 2017-2018 al Teatro Comunale di Teramo come mi ha assicurato telefonicamente il Sindaco due giorni fa e che gli abbonati i vecchi abbonati dovranno esercitare il loro diritto di predazione dal 19 aprile al 26 maggio nella sede della Riccitelli Apriamo la pagina dello sport oggi doppia seduta per il Pescara ancora al Petruzzi di Città Sant'Angelo dalla prossima settimana poi la squadra tornerà ad allenarsi al Poggio il campionato ovviamente è fermo per gli impegni delle nazionali intanto brutte notizie per Coda che starà fermo almeno 10 giorni per una lesione muscolare al bicipite femorale prima di essere ulteriormente rivalutato con il centrocampista Alessandro Bruno abbiamo parlato poi delle difficoltà del Pescara ascoltiamolo Bruno, nelle ultime uscite Zeeman ha detto la squadra non ha avuto un positivo atteggiamento tattico forse anche un po' troppa paura di giocare intanto sei d'accordo con questa analisi? Sì, effettivamente sì ma arrivato a questo punto è normale che ci sia la paura prepariamo sempre le partite in modo corretto però alla prima difficoltà ci sciogliamo come ne va il sole il problema psicologico e non riusciamo a superare questa difficoltà è una difficoltà che comunque è normale che ci sia perché dopo tanti risultati negativi è normale che entra un po' di paura non c'è più quella libertà di giocate di pensiero che c'era all'inizio del campionato Quanto è difficile assimilare gli schemi Zeemagnani e c'è stato poi il tempo effettivamente per farlo? Ma il gioco che vuole il mister è tutta un'altra cosa rispetto a quello che attuavamo in precedenza il mister vuole sempre le giocate negli spazi giocare sempre negli spazi ma i palla addosso viceversa quello che ci chiedeva diciamo il mister Oddo che facevamo un calcio più sui piedi che sullo spazio Io non so quello che fanno gli altri non so quello vogliamo finire in modo dignitoso in maniera positiva il campionato perché ci sono i tifosi da rispettare c'è la società da rispettare ci sono tante gente da rispettare quindi non mi sembra il caso parlare di futuro in questo momento di stagione chi lo fa per me non è rispettoso nei confronti di tutti ma soprattutto per noi compagni io ci credo ancora perché se vinciamo tre scontri diretti ci mettiamo lì e poi dopo vediamo come vanno a finire le cose ci credo non dobbiamo smettere di crederci dobbiamo trascinarci dietro quanto più persone possibile perché i miracoli esistono e nel calcio esistono quindi possiamo essere anche noi un miracolo e ora la Lega Pro seduta di rifinitura per il Teramo che nel pomeriggio è partito poi alla volta di Mantova dove domani affronterà la squadra di Gabriele Graziani alle 16.30 formazione per dieci undicesimi confermata rispetto a quella vista contro il Gubbio non ci saranno imparato Baccolo e Petrella che non figurano nemmeno nella lista dei convocati biancorossi al pari di Branduani l'esterno Pratolano non ha ancora superato il problema al Polpaccio che lo sta condizionando dopo i fastidi alla schiena delle scorse settimane l'unico vero dubbio per Ugolotti sarà nel ruolo di trequartista ha provato Carraro giovedì ma non è escluso che Tempesti possa essere riproposto per dare maggiore peso offensivo al 4-2-3-1 in difesa davanti a Narciso agiranno Sales, Caidi, Speranza e Carcalis Ilari e Amadio in mediana davanti certamente di Paolo Antonio a sinistra e Spighi a destra con Sansovini unica punta e poi l'interrogativo sul loro centrale che sarà sciolto solamente domani prima della gara in casa Mantova è improbabile la presenza almeno dal primo minuto dell'attaccante Matteo Guazzo che praticamente in settimana non si è mai allenato in difesa torna Cristini in mediana Raggio Garibaldi partita fondamentale per il Diavolo a quota 27 punti in classifica e che con un risultato positivo rilancierebbe ancora di più le sue possibilità di salvezza diretta arbitrerà Ranaldi della sezione di Tivoli ed ora la Serie D con il ritorno dell'ora legale nel corso della notte da domani le partite di Serie D avranno inizio alle ore 15 match di cartello al Gran Sasto d'Italia Italo a Concia tra l'Aquila e Alba Longa la partita si disputerà a porte chiuse i playoff sono alla portata dell'Aquila e la rincorsa al quinto posto passa per il match fondamentale di domani con l'Alba Longa proprio la compagine laziale occupa la quinta posizione con due punti in più rispetto all'undici di Battistini peccato che i rosso-blu arrivino decimati e siano costretti a giocare questa gara a porte chiuse al Gran Sasto d'Italia Italo a Concia pesa il provvedimento del giudice sportivo dopo la gara di Sansepolcro come detto l'Aquila è anche decimata ancora fuori causa Mallus e Peluso sono squalificati Arboleda Noman e Farroni così Battistini proporrà Salvetti tra i pali una coppia leggera in attacco obbligata Minin Cleri-Valenti con la vittoria sarà sorpasso ma intanto sarà fondamentale non perdere per restare in scia al treno playoff match proibitivo per l'Avezzano che sarà in trasferta sul campo della capolista Rieti poche chance di risultato per la squadra di Pino Tortora che non ha più obiettivi di classifica e le cui attenzioni sono rivolte all'amichevole di lusso di giovedì prossimo con il Pescara e al derby del 2 aprile con l'Aquila per queste due partite che si giocheranno al Dei Marsi sono già in corso le prevendite che presentano buoni numeri d'altro canto il Rieti è primo in classifica e impegnato in una lotta 3 per la vittoria con Arzachena e Monterosi difficile che a questo punto faccia passi falsi nel girone F partita di fondamentale importanza per il Pineto che deve completare l'operazione salvezza e domani il Mariani Pavone sfiderà il San Marino di Pino Di Meo la squadra di Amaolo è in un buon momento dopo aver sfiorato il colpaccio col San Nicolò il Monticelli è a portata di sorpasso ma gli Adriatici possono sempre cavalcare l'ipotesi del distacco in classifica dalla penultima che ora è di 12 punti ben oltre gli 8 del regolamento San Nicolò a caccia del secondo posto distante appena due punti Vispesaro e Matelica da superare per la squadra di Epifani domani trasferta sul campo di un Alfonsine in piena bagarre play-out che la scorsa settimana ha dato segnali di ripresa per la vastese in piena crisi al Carotti di Iesi c'è una delle ultime chiamate per inseguire il quinto posto in terra marchigiana mancherà Galizia fermato per tre giornate dal giudice sportivo da valutare l'impiego di Prisco che non è al 100% Chiudiamo con il calcio a 5 battendo 7 a 0 Asti il Pescara a calcio a 5 si è giudicato la Coppa Italia per la categoria Under 21 16 anni una squadra abruzzese di calcio a 5 nel settore giovanile riporta la Coppa Italia in Abruzzo è bellissimo era un trofeo che volevamo assolutamente ci abbiamo creduto dall'inizio è un lavoro che è partito 5 anni fa questi sono ragazzi che sono partiti con noi 5 anni fa sono arrivati a questo alto livello grazie poi al lavoro di Matteo che quest'anno ha completato la squadra con qualche acquisto mirato ma sempre mirato per il futuro perciò giocatori che devono essere pronti per giocare in prima squadra 3 già sono stabilmente in prima squadra e poi questi ragazzi sono cresciuti quest'anno in maniera esponenziale tutti quanti tutto il gruppo però le basi sono state di 5 anni fa per noi era importante arrivare a vincere il primo titolo è importante quasi come la vittoria dello Scudetto questo titolo siamo stati chiaramente molto più forti di tutti quanti gli altri l'abbiamo strameritato è un traguardo bellissimo traguardo voluto fortemente dalla società che ha iniziato l'anno scorso di questi periodi a programmare una interventura competitiva e ci siamo riusciti siamo riusciti al primo colpo al primo colpo a vincere la Coppa Italia e adesso continuiamo è sempre una finale quindi siamo entrati un pochettino contratti anche loro un primo tempo un po' bruttino però una volta ha rotto il ghiaccio nel secondo tempo siamo entrati forti come eravamo entrati bene le prime partite e siamo andati abbiamo segnato subito due gol e ci siamo sciolti e poi abbiamo giocato come sappiamo giocare finisce qui il TG6 che torna lunedì con la prima edizione delle ore 14 vi ricordo anche gli appuntamenti della domenica calcistica di TV6 inizieremo con Diretta Stadio intorno alle 14.55 non c'è la Serie A ma giocherà la Serie D che posticiperà come detto l'inizio delle partite con il ripristino nella notte dell'ora legale e poi seguiremo anche la partita del Teramo che giocherà a Mantua dalle 16.30 e poi in chiusura alle 19.30 l'Abruzzo del pallone con la conduzione di Jacopo Forcella è tutto grazie per l'attenzione buonanotte e buona domenica grazie per l'attenzione e buonanotte grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione